Ehi Pamela, guarda com'è divertente questo video! È buffissimo! Hai ragione Priscilla, fa morire da ridere! Ehi, ma che cose avranno quelle due da confabulare e da ridere così tanto? Ehi, Pamela, Priscilla, che state facendo? Cosa c'è di così divertente su quel telefonino? Ah, Masha, vieni a vedere anche tu! Ci sono un sacco di video divertenti su TikTok! Eh? Cogl'è questo TikTok? Io non lo conosco, non l'ho mai sentito dire! Ma come Masha non lo conosci? È famosissimo! È il social network più usato da tutti i ragazzi! Ormai lo usano tutti! E ci sono tantissimi video super divertenti! Ehi, a proposito Priscilla, l'hai visto ieri il nuovo video di Jeannette? È stato troppo forte! Oh sì, Pamela! Anche a me lei piace un sacco! La seguo sempre! Fa dei video troppo simpatici! Ehm, scusate, ma io non sto capendo niente di quello che dite! Io questo TikTok non l'ho mai visto! Mi fate dare una sbirciatina? Ma sì, certo, Masha, vieni! Guarda pure con i tuoi occhi! Mmm, vediamo un po'! Ah, guarda questo che carino! Eh, ma questi cosa stanno facendo? Oh, che cosa strana! Come sono buffi! Hihihi! Beh, avete ragione! Sembra molto divertente questo nuovo social network! E tutti possono farci dei video? Ma sì, certo, Masha! Tutti possono mettere un video su TikTok! Basta registrarsi! E poi, se il tuo video è piaciuto, beh, puoi ottenere tantissimi like! E ci sono tanti ragazzi che sono diventati anche famosi così! Dici davvero? Famosi? Mmm, beh, la cosa si fa molto interessante! Ah, tutti a scuola non fanno altro che parlare di questo nuovo social! TikTok! In effetti, ci sono un sacco di video divertenti! Voglio proprio darci un'occhiata anch'io! Devo chiedere alla mamma se mi presta un po' il suo telefonino! Mamma! 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 Ah, sei qui! Senti, mamma! Mi puoi prestare un attimo il tuo telefonino? Lo prendo e te lo riporto tra pochissimo! Ma sì, certo, Masha, puoi prenderlo! È proprio qua sul tavolo! Però ricordati di non usarlo troppo, eh! Tra poco me lo devi ridare! E a cosa ti serve? Devi mandare qualche messaggino alle tue amiche per caso? No, no, mamma! Sai, ho scoperto dalle mie compagne che c'è un nuovo social chiamato TikTok! È molto divertente! Ci sono un sacco di video simpatici! E così, volevo darci un'occhiata! TikTok! Mmm, non credo di aver mai sentito parlare di questo social! Io non ce l'ho sul telefonino! Forse è il caso di scaricarlo insieme! Così ci do un'occhiata anch'io! E scopriamo di cosa si tratta! Ok, ok, mamma! Allora lo scarichiamo, eh! Sei sicura, mamma, di sapere come si fa? Beh, sì, Masha! Un po' di queste cose me ne intendo! Basta semplicemente scaricare l'app di TikTok e poi iscriversi con il proprio nome! E così si possono iniziare a vedere tutti i video! Un po' come succede su YouTube, Facebook e altri social! Oh, come si è informata, mamma! Che brava! Beh, fammi cercare, allora! TikTok! Mmm, eccolo qua! Perfetto! Installiamo! Ecco fatto! TikTok! Ora è anche sul mio telefonino! Fammi dare un po' un'occhiata! Ah, hai ragione, Masha! Ci sono un sacco di video divertenti! Guarda questo com'è buffo! Dai, mamma, c'è una curiosa! Voglio vedere anche io! Voglio vedere anche io! Guarda questo, Masha! Padre e figlia che ballano insieme! Cavoli, sono proprio bravi! Oh, hai ragione, mamma! Mamma, è divertentissimo! Fammi un po' vedere che mosse fanno! Hop, hop, hop! Eh, non è mica così facile, però, eh! Beh, mamma, potremmo fare un video anche io e te su TikTok! Sarebbe divertente! Che ne dici? Eh? No, Masha! Queste cose non fanno proprio per me! Non ce la potrei fare a fare dei video come questi! Mi sentirei troppo ridicola! Mmm, ce lo dici tu! Beh, mamma, ora che hai dato una sbirciatina mi puoi dare il telefono! Voglio andare di là a guardare altri video! Ok, Masha! Tieni, ora è tutto tuo! Grazie, grazie, mamma! Ah, che bello! Vado a divertirmi un po'! Voglio diventare una TikToker anch'io! Sì sì! Ah, eccomi qua! Allora, tanto per cominciare voglio iniziare a guardarmi un po' di video! Devo capire che tipo di video fanno su TikTok per poter diventare una vera TikToker! E per poter fare dei video originali! Vediamo un po'! Questo no! Questo no! Oh, guarda! Che bei micetti! Questo gattino ha degli occhioni così dolci! Com'è carino! Che buffo! Sta giocando con le scarpe del suo padroncino! Ah, com'è divertente! Chissà che puzza che ha sentito lì dentro, eh! Sì sì! Io però gatti in casa non ne ho! Quindi, video con i gatti non ne posso fare! Cerchiamo qualcos'altro! Mmm, vediamo un po' questo! Ehi! Guarda questa bimba! Come mi somiglia! Sembro io! E guarda che faccia e buffe che fa! Ha! È proprio simpatica! Certo, io le faccio meglio, eh! Però mi somiglia un sacco! Questo video è super divertente! Mascia! Mascia! Che stai facendo? Giochi un po' con me, Mascia! Mi sto annoiando! Eh? No, Michael! Non posso giocare con te! Sono molto impegnata in questo momento! E cosa stai facendo, Mascia, col telefonino della mamma? Mi fai vedere? Uh, stai guardando dei video! Che bello! Posso vederli anch'io? No, Michael! No, Michael! Non sto semplicemente guardando dei video! Sto lavorando per diventare una vera TikToker! Eh? Totoker? Che cos'è? È una cosa che si mangia? Ma no, Michael! Ma no, Michael! Sciocchino! Tik-toker! Tik-tok è un nuovissimo social network dove vengono caricati ogni giorno milioni di video! Un social che? Un social network! Un social network! Beh, è un posto dove tutte le persone condividono dei video fatti da loro! Cose buffissime! Ad esempio, video di gatti, video di persone che ballano, che si truccano! Sono davvero super divertenti! E i video più belli ottengono tantissimi like! Tantissime persone li guardano! E così si può diventare famosi! Ah, ho capito, Mascia! Quindi vuoi diventare un personaggio famoso anche tu? Beh, sì, diciamo qualcosa del genere! Potrei diventare molto, molto popolare! Oh, Mascia! Che cosa super divertente! Beh, sai, Michael, tutto sommato potresti essermi d'aiuto anche tu! Io? E che centro io con i tuoi video su Tik-tok? Beh, potresti fare un video insieme a me! Sarebbe molto più buffo e divertente! Ti va? Beh, non lo so! Ok, sì, dai, accetto! Mi va, mi va! Cosa devo fare, Mascia? Oh, bene! Questo è l'entusiasmo giusto! Beh, mi è appena venuta in mente un'idea molto simpatica! Aspettami qui, che vado a prendere alcune cose per realizzare il nostro video, eh! Non ti muovere, Michael! Arrivo subito! Ok, Mascia? Chissà che cosa hai in mente! Oh, Issa! Oh, Issa! Eccomi qui, Michael! Ho portato tutto il necessario! Ehi, Mascia, ma quanta roba hai? Vestiti, borse... A cosa ci servono tutte queste cose? Beh, Michael, ora lo scoprirai! Questi saranno i nostri travestimenti per fare un video super originale! Allora, Michael, dentro questa borsa ci sono vestiti sia per me che per te! Il video sarà diviso in tre parti e ogni volta ci cambieremo d'abito! Oh, che cosa carina, Mascia! Ora fai quello che ti dico io e vedrai! Questo video sarà un successone! Ok, ok, Mascia! Dai, cominciamo! Sono super elettrizzato! Allora, per prima cosa, Michael, dobbiamo posizionare la videocamera! Ecco qui! E la andiamo a mettere proprio qui! La appoggeremo qua di fronte a noi! Così verranno delle belle riprese! Sì, sì, guarda come siamo carini! E adesso non ci resta che passare alla fase della trasformazione! Ecco fatto! Benissimo, Michael! Ora tutti i nostri vestiti sono pronti! Non ci resta che cominciare! Forza! Ha ha! Ah, Mascia! È proprio divertente fare il TikToker! Oh, sì, hai visto, Michael! Ora vado subito a prendere il telefonino per vedere come è venuto il video! Ora il nostro video sarà già in diretta su TikTok! E ci sarà già qualcuno che lo sta guardando! Ah, non vedo l'ora di vedere quanti like avrò già ricevuto! Ecco qua! Ehi! Guarda, Michael! Guarda come siamo venuti carini in questo video! Mmm, per il momento non l'ha ancora visto nessuno! Strano! È così bello! Dovrebbero vederlo tutti! Oh, mi è venuta un'idea! Condividerò il mio video con le mie amiche di scuola! Così, se non l'hanno ancora visto, potranno subito andarlo a guardare su TikTok! Aspetta un attimo che ora gli mando un messaggio! Ecco qua! Inviato! Opla! Ah, sono sicura che piacerà un sacco! Domani a scuola tutti ne parleranno! Ciao ragazze! Buongiorno! Oh, ciao, Masha! Ben arrivata! Sai, stavamo giusto riguardando il tuo video su TikTok! È bellissimo! Masha, hai ricevuto un sacco di like! Il tuo video sta piacendo tantissimo! Già, amiche! Ho visto! Sto diventando una vera celebrità! Modestamente! Ho un certo talento! Hihihihi! E poi, Masha, questo nuovo look ti sta benissimo! Stai proprio bene con questi occhiali e con questa borsetta! Ti fanno sembrare come una vera star! Beh, certo! È normale! Ora che sono famosa, Debo darmi un certo tono! Perché da oggi, finalmente, Sarò anch'io una vera TikToker! Hihihihi! Hei!